Quando dico che la musica, ma l'arte in genere, io parlo sempre per le mie competenze, è un servizio socioculturale, è una forma, e va riconosciuta non solo come compatto economico, che lo è di fatto, perché da da lavorare, e non sono solo i fonici, a noi servono i fonici, se no ascolteremo sempre, si vide questo suono brutto, tra l'altro, i fonici, chi fa i palchi, chi sposta le sedie, e quindi non è solo economico, è un comparto produttivo, noi produciamo, produciamo anche benessere, e produciamo coadjuvante sociale, parli con l'uomo che non è che lo dice per dirlo, La musica è una terapia, per me anche personale, che in questo momento mi manca e mi sta non facendo bene, ma è una terapia per la società, è un accompagnamento a un mondo migliore.